ebbene sì CZ è uscito ufficialmente da Binance come vi ho riportato ieri nel mio canale mi raccomando amici distruggete il tasto like prima di iniziare iscrivetevi al canale se non siete iscritti e accendete la campanellina delle notifiche per rimanere sempre e costantemente aggiornati una notizia che ha scosso un pochettino il mercato cripto in generale anche un pochettino il sentiment delle persone ma non troppo anche perché come abbiamo visto il mercato delle criptovalute diciamo anche delle altcoin sta reagendo molto bene bitcoin comunque si è ritornato una soglia di 36.000 all'incirca 5 bnb che aveva perso un bel po' di punti percentuali comunque sia si sta riprendendo e diciamo che il disastro che alcuni di voi si aspettavano effettivamente non è avvenuto anche perché non è la fine di Binance è la fine di un personaggio che nel mondo cripto era se non il più influente tra i più influenti quindi diciamo che una notizia del genere poteva aver messo un po' di paura per chi deteneva soprattutto magari degli asset all'interno di Binance e oggi in questo video andremo a vedere anche il portafoglio di Binance che cosa è successo a tutta la liquidità di Binance è successo un disastro oppure no e quindi diciamo che c'era veramente questa paura e questo sentimento negativo nella giornata di ieri sera ma naturalmente a parte gli exchange a parte tutto quello che abbiamo visto anche sul caso ve lo ricordo di FTX sono due cose completamente diverse però naturalmente dobbiamo capire bene che gli exchange sono gestiti da persone Bitcoin e la blockchain è nata diciamo per portare avanti un contesto di decentralizzazione difatti anche se può succedere dei problemi gravi o non gravi ad un exchange prendiamo il caso FTX potrebbe anche succedere a Binance un domani di andare in default di andare in fallimento comunque sia la blockchain Bitcoin rimane sempre lì perché è stata creata con un'ideologia di decentralizzazione quindi exchange non exchange le cripto possiamo dire che faranno fatica a morire ma quindi che cosa è successo nello specifico ricordiamolo Binance è stato multato sia Binance che il CEO CZ e CZ ha riconosciuto la sua colpevolezza e così si è dimesso da CEO ufficiale di Binance lasciando il posto un'altra persona che dopo andremo a vedere multa che si aggira intorno ai 4 4,3 miliardi di dollari e Zao si è autoriconosciuto colpevole di un reato relativo alla sua incapacità di prevenire il riciclaggio di denaro sulla piattaforma Binance dopodiché in seguito alla sentenza si è dimesso Binance ha ammesso di aver violato alcune regole e di non aver implementato adeguatamente le segnalazioni sulle transazioni sospette in poche parole è successo questo ora amici siamo un attimo su CryptoBubble per vedere un attimo un pochettino cosa un po' fuori dal tema come stanno diciamo come si sta andando sul campo delle altcoin e quant'altro comunque sia scenario scenario di anche qualche giorno fa quindi non è successo nulla di eclatante ragazzi quindi degli asset hanno perso punti percentuali BNB ha registrato un meno 9,2% ma troppo lo andremo a vedere normale Bitcoin meno 2,2% ragazzi tutti gli altri coin hanno perso punti percentuali quasi del 2-3% quindi andiamo su CoinMarketCap andiamo a vedere i maggiori top losers delle 24 ore al primo posto troviamo il BNB con meno 9,36% come abbiamo detto prima PancakeSwap meno 8,7% e tutti gli altri asset tax infiniti comunque percentuali che si attestano intorno al 10% e 5% i top gain sono FTX token, Blur 23%, 16% Synthetix 7,73% nelle ultime 24 ore quindi Bitcoin ragazzi che dopo la notizia di ieri è balzato alla soia di 35.756 dollari e ad oggi è risalito a 36.543 dollari accusando naturalmente un bel colpo come dicevamo prima Bitcoin eccolo qui diciamo che ci troviamo a livelli di qualche giorno fa quindi nulla di strano non è successo nessun patatrack grandioso insomma se andiamo a vedere sul BNB dopo andremo a vedere le notizie che è successo a Binance sul profilo di Binance anche quello che ha dichiarato CZ il BNB ragazzi dopo la giornata di ieri ecco qui lo troviamo a 226-27 dollari e ad oggi sta naturalmente un pochettino risalendo il prezzo a 235 dollari con volumi nelle ultime 24 ore naturalmente aumentati del quasi il 60% market cap persa del meno 1,9 e 36% quindi andiamo a vedere subito nel vivo abbiamo un tweet di CZ nel suo profilo ufficiale io ora ho fatto la traduzione in italiano per andare a leggere un pochettino diciamo quello che ha scritto di più importante oggi mi sono dimesso dalla carica dicevo di Binance non è stato facile lasciarsi andare ma sono la cosa giusta da fare ho commesso degli errori e devo assurirmi la responsabilità quindi CZ sta ampiamente affermando tutto quanto quindi anche ha fatto diciamo la decisione più logica quindi non ha fatto nulla ha fatto quello che dovrebbero fare ora tante altre persone che ci amministrano e quant'altro ma non sto qui a fare nomi quindi ha commesso degli errori e sta pagando pagherà la penale non è più ceo di Binance e quant'altra cosa è più giusta da fare naturalmente per non far fallire diciamo non mettere in cattiva luce un'azienda e portare avanti anche quella che è Binance dopo che Binance continuerà a crescere ed eccetera insomma andare avanti e quant'altro sono dietro di annunciare Richard Tank Richard Tank e questo signore qui ragazzi sarà il nuovo CEO di Binance questo signore qua che era praticamente il nostro ex responsabile globale dei mercati è stato nominato oggi Richard Ullini è altamente qualificato e con oltre tre decenni di esperienza nel settore dei servizi finanziari e della regolamentazione guiderà l'azienda nel prossimo periodo di crescita quindi dopodiché il mio pensiero attuale è che probabilmente farò degli investimenti passivi essendo un token azionista di minoranze e start-up nei settori blockchain, web trade, DeFi e biotecnologia quindi lui andrà avanti naturalmente monitorerà quelli che sono gli investimenti più importanti nel campo della DeFi e della nuova tecnologia e quant'altro non riesco a vedermi di nuovo come amministratore delegato alla guida di una start-up sono contento di essere un imprenditore fortunato se ci fossero potrei dire a quant'altro ok, qui praticamente ha fatto un bel post ragazzi sul suo profilo ufficiale ora andiamo, ecco qui, andiamo a rimettere la lingua originaria ecco qui, questo è il profilo ragazzi che abbiamo appena, il post che abbiamo appena letto sul suo profilo ufficiale quindi il nuovo CEO Richard Tank poi abbiamo dei articoli riguardanti su Binance Blog Binance, diciamo tutto quello che è successo con i regolatori nel campo USA e quindi qui anche sul blog riportano tutto quello che è successo riguardo a CZ, riguardo alle sue dimissioni riguardo al nuovo CEO la compliance e la security eccetera eccetera qui abbiamo scritto veramente tutto quanto ora andiamo a vedere ragazzi, ecco questi sono è la liquidità di Binance sono i portafogli che Binance in sostanza ha non è successo come possiamo vedere nulla di super agghiacciante anche perché vedete il profit and loss della giornata di ieri del 21 novembre praticamente c'è un loss di 1.699.501.000 dollari che naturalmente per tanti di voi compreso me non sono spiccioli ma se vediamo l'importo totale vediamo che abbiamo 64 miliardi 964.902.876 dollari quindi questo in confronto all'oss che c'è stato ieri dopo la notizia di CZ è diciamo non è successo nulla diciamo è come una briciola ok? come se hanno perso una briciola ragazzi scusate oggi sono un promo raffreddato purtroppo andiamo avanti andiamo a vedere gli asset le c'è in allocation token allocation abbiamo il 29% di asset in USDT 28% in Bitcoin 10% in Ethereum il TUSD 4A eccetera 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 quindi diciamo che dopo la notizia non c'è stato nessun crollo nessun quant'altro la liquidità di Binance quindi Binance non dovrebbe penso io avere dei problemi grossi in futuro nei prossimi giorni ma staremo a vedere andiamo avanti andiamo sulle notizie principali più grande su Color News il più grande exchange di criptovalute multato di 4 miliardi di dollari il CEO si dichiara colpevole di aver consentito il riciclaggio di denaro e rivale fondatore di FTX Zao era forse meglio conosciuto come il principale rivale di Samba Campriand il 31enne fondatore di FTX che era il secondo più grande scambio di criptovalute prima del collasso dello scorso novembre Binance è stato condannato all'inizio di questo mese per frode per aver rubato almeno 10 miliardi di dollari a clienti e investitori Zao nel frattempo martedì si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale federale di Seattle per aver mancato di mantenere un efficiente e efficace programma anti-riciclaggio il giudice magistrato ha interrogato Zao per assicurarsi che avesse compreso il patteggiamento dicendo a un certo punto sapevi di non avere controlli in atto sì vostro onore rispose Binance ha scritto in un comunicato di aver preso decisioni sbagliate mentre cresceva rapidamente fino a diventare il più grande scambio di criptovalute al mondo e ha affermato che l'accordo riconosce la sua responsabilità per violazioni storiche e penali di conformità segretario al tesoro americano ha affermato che Binance ha elaborato le transazioni da parte di attori illeciti sostenendo attività dall'abuso sessuale su minori e narcotici illegali al terrorismo attraverso più di 100.000 transazioni Binance non ha presentato una sola segnalazione di attività sospetta su tale transazioni ha affermato e la società ha consentito più di 1,5 milioni di scambi di valuta virtuale che violavano le sanzioni statunitensi comprese quelle che coinvolgevano le brigate di Hassan e Al-Qaeda e altri criminali il giudice ha fissato la sentenza per Zao per il 23 febbraio ma è probabile che subisca un rivio rischia una possibile pena prevista fino ai 18 mesi quindi informazioni molto importanti ragazzi e quindi il suo avvocato praticamente ha dichiarato ha deciso di venire qui e di affrontare le conseguenze ha detto Barlett è seduto qui si è dichiarato colpevole e sotto ancora sotto Zao voglio assumermi la responsabilità e chiudere questo capitolo alla mia vita ha detto Zao voglio tornare altrimenti non sarei qui oggi e quindi ha dichiarato la sua colpevolezza riguardo questi controlli che dovevano fare all'interno di questi scambi dell'exchange Binance quindi staremo a vedere anche ciò quindi andiamo avanti siamo su un altro articolo di market screen gli investitori di criptovalute accolgono con favore le voci di una risoluzione dell'indagine pedale su Binance quindi il dipartimento di giustizia di Stati Uniti il Doge sta chiedendo oltre 4 miliardi di dollari al Binance come parte di una proposta di risoluzione della sua indagine ha riferito lunedì Bloomberg citando persone che hanno familiarità con le discussioni e questo sta avvenendo quindi amici siamo arrivati alla fine del video fatemi sapere cosa ne pensate di tutto questo casino se no ragazzi ricordiamoci sempre che dietro agli exchange ci sono persone che gestiscono l'exchange e non c'è una decentralizzazione come quello che può essere la blockchain in bitcoin bitcoin ok ragazzi quindi diciamo che dagli exchange c'è sempre magari da stare un pochettino al riguardo perlomeno per chi fa trading ok ma poi effettivamente non so quanto possa servire per chi detiene dei fondi in cripto che possono essere anche dei denoti su hardware wallet o altri wallet non custoditi eccetera quindi detto ciò siamo arrivati alla fine del video lasciate un bel like iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima